Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Le mareggiate ora fanno meno paura di prima. I lavori di realizzazione della radente sono stati conclusi e la barriera di massi naturali, inizialmente prevista solo per alcuni tratti della costa nord e centrale di Alba Adriatica, si sono spinti fino alla Bambinopoli comunale. Nel frattempo alcuni stabilimenti balneari di Alba Adriatica hanno realizzato, sull'esperienza di Tortoreto, dune di sabbia da rispalmare davanti agli stabilimenti stessi, dove è stata prelevata, prima dell'avvio della stagione estiva prossima. I granelli dai riflessi dorati e argente, i tipici della costa albense, vengono così strappati alle mareggiate. I balneatori hanno iniziato ad accumulare centinaia di metri cubi di sabbia, spingendoli dalla battigia verso ovest con le ruspe. Le barriere si estendono per quasi un chilometro, superando il quantitativo inizialmente previsto di 4.000 tonnellate di massi. Le rocce naturali sono state posizionate per impedire che i flutti, in caso di motondoso violento, facciano ancora danni, oltre a quelli già evidenti dopo la mareggiata dello scorso novembre, quando il mare spazzovia strutture, cabine, canali di scarico acqua e di raccolta delle cavate, minando dalle fondamenta anche alcuni stabilimenti balneari. L'acqua arrivò all'altezza della passeggiata, facendo scattare l'allarme, per cui il sindaco di Alba Adriati, Cante Unietta Caciotti, chiese il riconoscimento dello stato di emergenza, che al momento non è stata ancora accolta. Il cantiere marittimo si è concentrato sulla terraferma, dove le ruspe hanno provveduto prima ad appianare le terrazze prodotte dalle mareggiate della passata stagione, poi a posizionare i massi.